Dal 27 al 30 agosto potenziamento dei controlli della Polizia Stradale in tutta Italia per reprimere l'utilizzo di cellulari e smartphone mentre sia al volante. Verranno realizzate una serie di operazioni ad alto impatto. In Veneto la Polizia Stradale, oltre ai consueti compiti istituzionali, effettuerà specifici servizi di controllo mediante l'impiego di pattuglie lungo la viabilità ordinaria e autostradale. La Polizia si appella ai conducenti invitandoli al rispetto delle norme del codice della strada, non solo per non incorrere in sanzioni ma per l'incolumità propria e quella degli altri. L'utilizzo del telefonino mentre si guida è pericolosissimo. L'uso degli stessi durante la guida produce gravissimi effetti sulla concentrazione del conducente e sulla capacità di attenzione alle condizioni esterne all'abitacolo durante la marcia del veicolo. In particolar modo, pur non potendo imputare solo a questi casi illeciti la fonte principale di distrazione del conducente, la presenza nei cellulari di molte applicazioni facilmente accessibili, anche con l'utilizzo di una sola mano, amplifica notevolmente i fattori di rischio di incorrere in incidenti stradali, in quanto i tempi di reazione rispetto alle normali condizioni si dimezzano dando luogo a condotte di guida incerte, non lineari, rallentate o a manovre improvvise e non presegnalate.